Demo ragazzi dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti, non so perché che servi ma va bene. Domani fai un allenamento solo la mattina, chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua di noi. Non è proprio farina tutta del mio sacco, ma deve aver impostato questo libero che mi ha portato insulti, fischi, urli. Oggi dico una stupidata ma quasi vera, tutto il mondo gioca con quel modulo, si è perfezionato, il libro non calcia più a valvera, il libro comincia a costruire, tutto nel football va avanti, tutto nel football si migliora, si è migliorato, ma il modulo è sempre quello.